I principi universali a cui ispirarsi per l'accessibilità sono ovviamente la Convenzione ONU per i diritti delle persone disabili. Infatti questo è il principio cardine su cui tutte le normative nazionali e regionali si basano. In particolare la Convenzione dell'articolo 9 recita che l'accessibilità è la libertà da barriere ed è una condizione essenziale per l'uguaglianza delle persone disabili e per fare in modo che queste partecipino pienamente alla vita sociale. Nel nostro progetto CAMIN abbiamo poi trasferito questi principi teorici in cose molto pratiche e semplici da realizzare e l'abbiamo chiamata catena dei servizi. Questa catena dei servizi è un insieme di anelli che si concatenano appunto e sono essenziali per la piena accessibilità del museo. Questa catena dei servizi parte ovviamente dall'arrivo e quindi dall'area esterna che deve essere accessibile, poi per quel che riguarda l'ingresso e il desk, anche questo deve essere un anello importante nell'accessibilità, la cassa, il guardaroba, poi ovviamente l'area espositiva, ma anche i servizi igienici, i negozi e poi la fase di uscita del museo.